In un ambiente ostile, in cui il Partito Comunista arresta costantemente i cristiani, abbandona il suo dovere per paura e codardia. In un momento così cruciale, avrei dovuto lavorare con i fratelli per gestire le conseguenze. Ma ho scelto di salvarmi, abbandonando il mio dovere e ho disertato. È sopraffatta dal rimorso per questo. Se non avessi insistito tanto per andarmene e avessi continuato a fare il mio dovere quando era necessario, gestando le conseguenze insieme agli altri, sarebbe stato meglio. Quell'esperienza diventa qualcosa a cui non può sopportare di ripensare. Mi sembrava profondamente impressa nel mio cuore, indelebile. Ripensarci era doloroso e mi sentivo in colpa. Nell'agosto 2015, io e la mia famiglia ci siamo trasferiti nello Xinjiang. Avevo saputo che il Partito Comunista attuava severe misure di controllo e sorveglianza, col pretesto di combattere le rivolte uigure. Era un ambiente rischioso. Una volta arrivati nello Xinjiang, abbiamo trovato un'atmosfera più tesa di quanto immaginassi. La polizia pattugliava a ogni angolo. Per andare al supermercato, ci facevano una scansione completa del corpo. Alle fermate degli autobus trovavi poliziotti che pattugliavano con le pistole legate alla schiena. Tutto questo mi nervosiva molto. Come credenti, siamo già soggetti alle persecuzioni del Partito. e lì la sorveglianza era così severa che ero agitata come se rischiassi l'arresto o la vita da un momento all'altro. Verso ottobre, ho saputo che due sorelle erano state arrestate e condannate a dieci anni per aver consegnato libri delle parole di Dio. Ah, a dieci anni? Sì, anch'io ne sono rimasta piuttosto sconvolta. Non erano leader, ma hanno avuto dieci anni solo per aver consegnato dei libri. Io gestivo il lavoro della chiesa. Se mi avessero arrestata, dieci anni sarebbero stati il minimo. All'epoca, la mia mente era sempre colma di immagini di fratelli torturati in prigione. Avevo molta paura. Temevo di essere arrestata e torturata, tanto da rimpiangere la mia nascita. La paura è cresciuta e non ho più osato pensarci. Ma ho anche sentito alcuni fratelli condividere su come si affidavano a Dio per compiere un dovere in quel tipo di ambiente e vedevano la Sua onnipotenza e percepivano la Sua protezione. Questo mi ha incoraggiata, dandomi la fede per superare la cosa. Nel febbraio 2016, ho saputo che Wang Bing, un membro malvagio di una chiesa di cui ero responsabile, criticava sempre i leader, intralciando la vita della chiesa. Sì, se non si risolveva subito, avrebbe influito sulla vita dei fratelli e delle sorelle. Hai ragione. Con alcuni collaboratori abbiamo deciso che sarei andata io in quella chiesa per affrontare il problema. Ma avevo un po' di paura. Le sorelle condannate al carcere per dieci anni erano state arrestate proprio lì. Il PCC aveva persino radunato gli abitanti del villaggio per annunciare la loro condanna, minacciandoli di non credere in Dio. Era un ambiente molto pericoloso. Non sapevo se lì sarei stata arrestata. Ho cercato delle scuse per non andare. Ma la mia collaboratrice, Sinkin, era pronta e disposta a farlo. E ho provato un po' di vergogna. Sinkin credeva da poco e si stava formando come leader. C'erano molti problemi in quella chiesa e non era un ambiente facile. Mi sentivo in colpa a mandare lei da sola. Così ho detto, forse è meglio che vada io. Una volta lì, ho visto che Wang Bing non sapeva condividere le parole di Dio nelle riunioni. E trovava sempre da ridire sui leader, intralciando la vita della chiesa. Ne ho parlato con il predicatore e abbiamo deciso di isolarlo e di condividere la verità con gli altri per aiutarli ad acquisire discernimento, così da evitare ulteriori intralci. Poi, potevamo formare sorella John Sinkin per affidarle il lavoro della chiesa. Ma risolvere completamente i problemi di quella chiesa avrebbe richiesto molto tempo. Circa la metà dei fratelli di quella chiesa era stata arrestata. Quindi, più restavo lì, più il pericolo sarebbe aumentato. Dato che avevamo decretato una soluzione, ho pensato che potesse occuparsene il predicatore. Ho assegnato i doveri rimanenti e sono tornata a casa in fretta. La questione si è risolta così? No. Il predicatore ha poi detto che quel malfattore stava diventando sempre più sfrontato, formando una fazione nella chiesa per attaccare i leader e intralciando la vita della chiesa. Così, ho condiviso con il predicatore su alcune soluzioni, ma il problema è rimasto irrisolto. Mi sentivo un po' in colpa. Occuparmi di quella chiesa era mia responsabilità, eppure non volevo rimanere lì e rischiare l'arresto, e questo era ingiusto. Ma ho anche pensato a una sorella che era sfuggita all'arresto mentre prendeva il treno per partecipare a una riunione. E se fossi salita su un treno e mi fosse successa la stessa cosa? Consideravo che non potevo svolgere il mio lavoro di leader se non era garantita la mia sicurezza. Così, ho continuato a scaricare i problemi di quella chiesa sul predicatore, ma a date le sue capacità limitate, sono rimasti del tutto irrisolti. Nel settembre 2016 ho ricevuto una lettera. Quattro fratelli di quella chiesa erano stati arrestati per aver consegnato libri delle parole di Dio. Una a John Sin era stata picchiata a sangue. Un paio di giorni dopo, un'altra lettera ci ha informati che era morta per le percosse. La notizia mi ha colpita come un fulmine a ciel sereno. Non riuscivo proprio a crederci. Sapevo che le torture del Partito Comunista erano assolutamente spietate, ma non immaginavo che una persona in salute sarebbe morta in pochi giorni. Era terrificante. Mi sembrava che l'aria intorno a me si fosse congelata e non ha potuto fare a meno di scoppiare a piangere. Più ci pensavo e più ero sconvolta e mi chiedevo come fosse successo. Sapevo che un malfattore intralciava quella chiesa e i Suoi membri non vivevano un'adeguata vita di chiesa. Era una leader della chiesa, ma non avevo risolto appieno il problema per paura di essere arrestata. Se mi fossi assunta più responsabilità o se avessi risolto i problemi richiamando i fratelli a vigilare di più sulla loro sicurezza, forse John Sin sarebbe ancora viva. La Sua morte mi ha gettata in uno stato di forte senso di colpa. E mi ha terrorizzata. Percepivo quell'ambiente come se fossi oppressa da delle nuvole oscure e riuscivo a malapena a respirare. Ma sapevo che in un momento così non potevo scappare. Perciò ho aiutato il predicatore a gestire le conseguenze. Ma le condizioni di quella chiesa non erano ancora del tutto gestite. Ho saputo che anche una sorella con cui avevo lavorato era stata arrestata e che la polizia aveva informazioni sui membri della nostra chiesa. Ero stata in contatto frequente con quei fratelli. Se la polizia avesse visto i filmati di sorveglianza, avrebbe potuto arrestarmi in qualsiasi momento. Se ciò fosse accaduto, era impossibile prevedere se ne sarei uscita viva. Avrei potuto finire come John Sin, picchiata a morte dalla polizia in giovane età. Pensarci mi spaventava e volevo abbandonare quel dovere. Non volevo nemmeno più rimanere lì. Poiché non ho mai affrontato quello stato e per diversi mesi non ho saputo risolvere il problema del malfattore che intralciava la chiesa, alla fine sono stata rimossa. Da allora mi sono occupata della redazione testi. Tuttavia mi sentivo ancora in pericolo. Temevo l'arresto e volevo un dovere nella mia città natale. I fratelli hanno condiviso con me, sperando che in un momento così critico potessi rimanere e aiutarli a gestire le conseguenze. Ma io ero sopraffatta dalla paura e non ho ascoltato le loro esortazioni e alla fine me ne sono andata. Nell'aprile 2017, a causa del mio comportamento, la chiesa mi ha chiesto di isolarmi in casa per riflettere. Non potevo andare alle riunioni. Non ho trattenuto le lacrime quando l'ho saputo, ma poiché avevo abbandonato il mio dovere in un momento così critico, sapevo che essere isolata era la giustizia di Dio. Ero disposta a sottomettermi. Un giorno, nei miei devozionali, ho letto queste parole di Dio. Se svolgi un ruolo importante nella diffusione del Vangelo e diserti la tua posizione senza avere il permesso di Dio, non c'è trasgressione più grande. Non si tratta forse di tradimento verso Dio? Secondo il vostro punto di vista, Dio come dovrebbe trattare allora i disertori? Mettendoli da parte. Questo significa essere ignorato, lasciato libero di fare ciò che vuoi. Se una persona che è stata messa da parte prova rimorso, Dio potrebbe vedere il suo atteggiamento contrito e volerla di nuovo. Ma verso coloro che disertano il loro dovere e solo verso costoro, Dio non assume questo atteggiamento. Dio come tratta queste persone? Dio non le salva, le disprezza e le respinge. Corretto al cento per cento. Le persone che svolgono un dovere importante hanno ricevuto tale incarico da Dio e se lo disertano, per quanti risultati abbiano ottenuto in passato o quanti ne ottengano poi, agli occhi di Dio sono persone che lo tradiscono e non potranno mai più svolgere un dovere. Dio disprezza le persone che disertano il proprio dovere o che lo prendono alla leggera per i molti comportamenti, azioni e manifestazioni di tradimento verso Dio. Poiché tra i vari contesti, persone, questioni e cose disposti da Dio, queste persone danneggiano, ritardano, intralciano o compromettono il progresso dell'opera di Dio. E per questo motivo, cosa prova Dio e in che modo reagisce nei confronti di chi diserta e chi lo tradisce? Che atteggiamento assume Dio? Solo disprezzo e odio. Prova pietà? No, non potrebbe mai provare pietà. Alcuni dicono, Dio non è forse amore? Dio non ama simili persone. Esse non sono degne di amore. Se tu le ami, il tuo amore è sciocco e ciò non significa che le ami anche Dio. Tu puoi anche averle a cuore, ma Dio no, perché in queste persone non c'è nulla che ne sia degno. Quindi, Dio abbandona tali persone e non concede mai loro una seconda possibilità. Questo è ragionevole? Non solo è ragionevole, ma è soprattutto un aspetto dell'indole di Dio ed è anche la verità. Amen. Amen. La rivelazione delle parole di Dio mi ha colpita come un coltello nel cuore. Sorella John Sin era morta e un'altra arrestata. In un momento così importante, avrei dovuto lavorare con i fratelli per gestire le conseguenze. Invece, sono scappata via. Nessuno con un minimo di coscienza farebbe una cosa del genere. Non riuscivo a perdonarmi per essermi comportata così. Avevo sempre creduto che qualunque errore commettessi, Dio avrebbe avuto pietà di me se mi fossi pentita davanti a Lui. Ma poi ho capito che era solo una mia fantasia. Dio dice che rinuncerà a coloro che abbandonano il dovere e gli voltano le spalle nei momenti critici senza altre possibilità. Leggendo le parole di Dio, ho appreso che la Sua misericordia segue dei principi. Dio non perdona e non concede misericordia a chiunque per qualsiasi offesa. Dio è giusto e maestoso e non tollera offesa. Dal momento in cui sono fuggita, ho sentito che Dio aveva già rinunciato a me. Non ero minimamente serena. Ero sopraffatta dal rimorso. Non so quante volte ho pregato né quante lacrime ho versato per questo. Che Dio mi abbandonasse o meno, ero pronta a rendergli servizio per ripagare il mio debito. e comunque mi trattasse, sarebbe stato assolutamente giusto. Non mi sarei lamentata nemmeno se mi avesse mandata all'inferno, perché quello che avevo fatto lo aveva davvero offeso e ferito. Ero stata una credente per tutti quegli anni. Avevo fatto dei sacrifici e volevo perseguire la salvezza. Ma non avrei mai immaginato che di fronte alla persecuzione del partito, avrei tradito Dio e abbandonato il mio dovere, commettendo una grave trasgressione. Pensarci mi colmava di infelicità e disperazione. Non riuscivo a trattenere le lacrime. Ero sopraffatta dal rimorso e dal senso di colpa. Se non avessi insistito tanto per andarmene e avessi continuato a fare il mio dovere quando necessario, gestendo le conseguenze insieme agli altri, sarebbe stato meglio. Non avrei vissuto nella miseria e nella disperazione. Non volevo che andasse così. Ma a quel punto era troppo tardi. Potevo incolpare solamente me stessa. Mi odiavo per essere stata così egoista e vile. Una persona come me era indegna della misericordia di Dio. Sentivo che poiché la chiesa non mi aveva espulsa, «Avrei dovuto fare meglio per rimediare alla mia trasgressione». In seguito, mi recavo ovunque i leader mi chiedessero di andare. Se serviva sostegno alle chiese in pericolo, io ci andavo e basta. E dopo un po', ho ottenuto dei risultati. Ma non volevo più parlare della mia trasgressione. Volevo alzare un muro, dimenticarmene e basta. Tuttavia, non ci riuscivo. Mi sembrava profondamente impressa nel mio cuore, indelebile. Ripensarci era doloroso e mi sentivo profondamente in colpa. Poi, un giorno ho letto delle parole di Dio che hanno fatto luce sul mio stato. Dio Onnipotente dice, per la propria sicurezza e per evitare l'arresto, sfuggire a ogni oppressione e restare in un ambiente sicuro, gli anticristi spesso implorano e pregano per la propria incolumità. Solo quando si tratta della propria sicurezza, si affidano e si offrono veramente a Dio. Quando si tratta di questo, la loro fede è autentica e si affidano realmente a Dio. Si preoccupano di pregare Dio solo per chiedergli di proteggere la loro incolumità, senza pensare minimamente al lavoro della Chiesa o al loro dovere. La sicurezza personale è il principio che li guida nel lavoro. Qualunque luogo sia sicuro, è lì che svolgeranno del lavoro e di fatto saranno propositivi e positivi nel loro lavoro, mettendo in mostra il loro grande senso di responsabilità e la loro grande lealtà. Se un lavoro comporta un rischio e c'è la possibilità che vada male, che porti chi lo svolge a essere scovato dal gran dragone rosso, accampano scuse, passano la palla a qualcun altro e trovano un pretesto per sottrarvisi. Appena c'è un pericolo o appena c'è l'indizio di un pericolo, cercano di trovare delle soluzioni per districarsene e abbandonare il loro dovere senza curarsi dei fratelli e sorelle. Pensano solo a togliersi dal pericolo. Forse in cuor loro sono già pronti. Appena il pericolo si palesa, abbandonano immediatamente quello che stanno facendo senza curarsi di come vada l'operato della Chiesa, in quale perdita possano incorrere gli interessi della Casa di Dio o quale sia il rischio per l'incolumità di fratelli e sorelle. Ciò che preme loro è scappare. Hanno persino un asso nella manica, un piano per proteggere se stessi. Appena il pericolo incombe su di loro o vengono arrestati, dicono tutto ciò che sanno, liberandosi e assolvendosi da ogni responsabilità per preservare la loro incolumità. Questo è il piano che hanno già pronto. Non sono persone disposte a soffrire la persecuzione perché credono in Dio. Temono di essere arrestate, torturate e imprigionate. Il fatto è che hanno già da molto tempo ceduto a Satana. Sono terrorizzati dal potere del regime di Satana e ancor più spaventati da cose come la tortura e il duro interrogatorio a cui sono sottoposti. Quindi, se tutto va a gonfie vele, se non c'è minaccia alla loro incolumità né ci sono problemi a questo riguardo e non si prospetta nessun rischio, può essere che gli anticristi offrano il loro zelo e la loro lealtà e persino i loro beni. Ma se le circostanze sono sfavorevoli e c'è la possibilità che vengano arrestati in qualsiasi momento per il fatto di credere in Dio e di fare il proprio dovere, e se la loro fede in Dio può portarli a essere licenziati dalla loro posizione ufficiale o abbandonati da parenti e amici stretti, allora sono eccezionalmente cauti non predicando il Vangelo né testimoniando Dio né facendo il loro dovere. Quando c'è un lieve segnale di pericolo si chiudono come violette. Quando c'è un lieve segnale di pericolo insorge in loro immediatamente il desiderio di restituire alla Chiesa i loro libri contenenti la parola di Dio e tutto ciò che è legato alla fede in Dio in modo da restare al sicuro e in columi. Le persone di questo genere non sono pericolose? Se arrestate, non diventerebbero dei Giuda? Un anticristo è così pericoloso da poter diventare un Giuda in qualsiasi momento. Ci sarà sempre la possibilità che volti le spalle a Dio. Inoltre, è estremamente egoista e malvagio. Ciò è determinato dalla natura e dall'essenza di un anticristo. Gli anticristi sono estremamente egoisti e meschini. Non hanno vera fede in Dio tantomeno devozione a Dio. Quando si imbattono in una questione tutelano e proteggono soltanto se stessi pensano soltanto a se stessi per loro nulla è più importante della propria sopravvivenza e incolumità. Non badano al danno arrecato al lavoro della casa di Dio. Se sono ancora vivi e non succede loro nulla, è questo l'importante. Tali persone sono estremamente egoiste. Non pensano per niente a fratelli e sorelle né alla casa di Dio. Pensano soltanto a se stessi. Sono anticristi. Amen. Amen. Le parole di giudizio di Dio mi hanno colpita a diretto al cuore. Mi hanno messa a nudo. Non avevo scampo. Ero quel tipo di persona che di fronte al pericolo vuole solo proteggersi, senza pensare al lavoro della chiesa o alla vita dei fratelli. Ero egoista e spregevole. Quando sono arrivata nello Xinjiang, ho visto che ovunque l'ambiente era terribile. A ogni passo rischiavo di essere arrestata. Mi pentivo di esserci andata per il mio dovere. Quando ho saputo che bisognava occuparsi di una persona che intralciava la chiesa, non volevo andare con la scusa della paura di essere arrestata. Con riluttanza l'ho fatto, ma poiché pensavo solo alla mia sicurezza, me ne sono andata prima che le cose fossero risolte. Sapevo che c'erano gravi problemi in quella chiesa e dovevo risolverli, ma volevo salvarmi la pelle. Ho usato la mia posizione per dare ordine invece di svolgere un vero lavoro, spingendo addirittura altri fratelli a occuparsene, mentre io restavo al sicuro in un'esistenza ignobile. E di conseguenza i problemi di quella chiesa sono rimasti risolti per mesi. Ho persino escogitato una scusa plausibile che, come leader, dovevo essere al sicuro per fare il mio lavoro. Ma in realtà, stavo solo trovando un pretesto per fuggire di fronte al pericolo. E quando John Sin è stata arrestata e picchiata a morte, ho continuato a pensare alla mia sicurezza, a preoccuparmi se sarei stata o no arrestata o addirittura torturata a morte. Volevo abbandonare il mio dovere e andarmene da quel luogo pericoloso. Una volta rimossa, non ho voluto rimanere ad aiutare e sono tornata nella mia città. I fratelli non mi hanno rimproverata, ma dentro di me percepivo l'abbandono, il disgusto e la condanna da parte di Dio. Ciò che rimpiangevo di più era che la chiesa mi aveva scelta come leader e affidato i fratelli. invece io in un momento di difficoltà sono scappata non curante degli altri senza pensare nemmeno al lavoro della chiesa. Sono diventata una traditrice attaccata alla vita e lo zimbello di Satana e ciò è diventato una ferita insanabile nel mio cuore. Attraverso questi fatti ho visto che ero una codarda e che vivevo in modo egoistico senza alcuna umanità. le parole di Dio hanno colpito nel segno rivelando gli spregevoli secondi fini nascosti nel profondo del mio cuore. Non potevo continuare a evitare la realtà. Sentivo il mio profondo peccato di tradimento nei confronti di Dio e di non meritare la Sua salvezza. Ho anche pensato a come Dio si sia incarnato due volte per salvare l'umanità dando tutto se stesso. Duemila anni fa il Signore Gesù fu crocifisso per la redenzione dell'umanità versando ogni goccia del Suo sangue. Negli ultimi giorni Dio si è incarnato di nuovo per salvare l'umanità corrotta mettendo a rischio la Sua vita per operare nella tana del Gran Dragone Rosso costantemente perseguitato dal PCC ma Dio ma Dio non ha mai rinunciato a salvare l'umanità ha continuato a esprimere verità per irrigarci e sostentarci. Dio ha dato tutto per l'uomo il Suo amore per noi è così reale e disinteressato mentre io ero egoista e meschina. Nel mio dovere proteggevo me stessa trascurando il lavoro della Chiesa. Ero così indebito con Dio e non meritavo di vivere davanti a Lui. Tutto ciò che desideravo era rendere servizio a Dio per alleviare il mio peccato. Nel dicembre del 2021 sono stata rieletta leader della Chiesa ma pensando a come avevo tradito Dio e che non meritavo quel ruolo ho raccontato in lacrime a un leader che in passato avevo disertato. Il leader mi ha detto sono passati anni e tu sei ancora prigioniera di questo stato di negatività. Così non avrai l'opera dello Spirito Santo. È vero. Quando falliamo non possiamo sprofondare nella negatività. Questo potrà soltanto allontanarci da Dio. È essenziale capire la volontà di Dio ricercando. Sì. Anche io ho considerato che erano passati anni. Quindi perché ero ancora così depressa per aver frainteso Dio? Come dovevo risolvere il mio stato? Dopodiché mi sono impegnata a pregare e ricercare. Ho letto queste parole di Dio. Anche quando ritieni che Dio ti abbia abbandonato e tu sia caduto nelle tenebre non devi temere. Se sei ancora vivo e non sei all'inferno hai ancora una possibilità. Ma se sei come Paolo il quale alla fine testimoniò che per lui vivere è Cristo per te è finita. Se sei in grado di aprire gli occhi hai ancora una possibilità. Che possibilità hai di saper presentarti dinanzi a Dio, pregarlo e cercare risposte da Lui dicendo «Oh Dio, ti prego illuminami su questo aspetto del cammino della pratica e questo aspetto della verità». Se sei un seguace di Dio hai speranza di salvezza e andrai avanti sino alla fine. Queste parole sono sufficientemente chiare? Tendete ancora a essere negativi? No. Se si capisce la volontà di Dio il sentiero è ampio. Se invece non la si comprende il sentiero è stretto, vi sono tenebre nel cuore, non si ha un cammino da fare. Coloro che non capiscono la verità sono così. Cavillano sempre, hanno ristrettezze di vedute, si lamentano di Dio e lo fraintendono con l'esito che più avanzano e più il sentiero svanisce. In realtà non capiscono Dio. Se Dio trattasse gli esseri umani secondo la loro fantasia, la razza umana sarebbe stata distrutta da tempo. Voglio che nessuno si senta come se Dio lo avesse lasciato al freddo, abbandonato o gli avesse voltato le spalle. Vorrei vedere tutti sulla strada alla ricerca della verità e della comprensione di Dio avanzare e marciando baldanzosi con volontà incrollabile. Senza dubbi, senza alcun fardello, indipendentemente da quanti errori tu abbia commesso, da quanto tu ti sia allontanato dal cammino o da quanto tu abbia trasgredito. Non permettere che questo ostacoli la tua ricerca di comprendere Dio, tu continui ad avanzare. Dio ha sempre a cuore la salvezza dell'uomo. Ciò non muta mai. È la parte più preziosa dell'essenza di Dio. Dio si aderò molto con i niniviti perché i loro atti malvagi erano giunti davanti ai Suoi occhi. In quel momento, la Sua collera derivava dalla Sua essenza. Tuttavia, quando la collera di Dio svanì ed Egli tornò a concedere alla popolazione di Ninive la Sua tolleranza, tutto ciò che Egli rivelò fu ancora la Sua essenza. La totalità di tale cambiamento fu dovuta al mutato atteggiamento dell'uomo verso Dio. Durante questo tempo, l'indole di Dio che non tollera offesa restò immutata. L'essenza tollerante di Dio non cambiò né mutò la Sua essenza amorevole e misericordiosa. Quando l'uomo commette atti malvagi e offende Dio, Egli riversa su di Lui la Sua collera. Quando gli uomini si pentono davvero, Dio ha un ripensamento e la Sua collera si placa. Quando gli uomini continuano ostinatamente a opporsi a Dio, la Sua furia è implacabile e la Sua ira li incalzerà poco alla volta e poi, alla fine, li distruggerà. Questa è l'essenza dell'indole di Dio. Che Dio esprima ira oppure misericordia e amorevolezza è la condotta, il comportamento, l'atteggiamento che l'uomo assume dal profondo del cuore nei Suoi confronti a determinare la rivelazione dell'indole di Dio. Amen! Lode a Dio, queste parole mi commuovono davvero. Commettere errori o trasgressioni in un dovere non è spaventoso. Se sappiamo ravvederci, Dio non se ne ricorderà. Sarà misericordioso e ci salverà. Sì, leggere queste parole mi ha fatta commuovere e sentire in colpa. Ho capito che da molti anni stavo fraintendendo Dio. La volontà di Dio è salvare l'umanità il più possibile. Egli non rinuncerebbe mai a qualcuno a causa di una trasgressione momentanea e concede ampie opportunità di pentimento. Proprio come con i Niniviti, Dio disse che li avrebbe distrutti perché compivano il male andando contro di Lui. ma prima di distruggere Ninive, egli inviò Giona a condividere la Sua parola dando agli abitanti la possibilità di pentirsi. Quando si pentirono veramente, Dio trasformò la Sua ira in tolleranza e misericordia perdonando le loro malefatte. Questo mi ha mostrato quanto amore e misericordia ha Dio per l'uomo. La Sua ira profonda e la Sua misericordia seguono dei principi e cambiano in base all'atteggiamento delle persone verso Dio. Esatto. Anche se le parole di giudizio di Dio sono dure e arrivano a condannare, è solo un conflitto verbale, non sono eventi reali. Dio voleva che io comprendessi la Sua indole giusta che non tollera offesa, avessi un cuore di riverenza e mi pentissi davanti a Lui, in modo che in ogni momento e circostanza compissi devotamente un dovere. Sì. Esatto. A quel punto ho capito di essere troppo testarda e ribelle. Per anni avevo frainteso Dio e mi ero delimitata sulla base di nozioni, intrappolandomi in un vicolo cieco. Ma in realtà Dio non aveva rinunciato alla mia salvezza. Stavo fraintendendo la Sua intenzione di salvarmi. Questo mi ricorda alcune parole di Dio. La misericordia e la tolleranza di Dio non sono rare. È raro il vero pentimento dell'uomo. Amén. Verissimo. Anche se Dio ci rivolge la Sua ira, il Suo giudizio e ci condanna e maledice, è pieno d'amore e misericordia. Se non comprendiamo la Sua indole giusta, tenderemo a fraintenderlo. Capire il desiderio di Dio di salvarci mi ha colmata di rimorso e senso di colpa. Non volevo più scappare dalla mia trasgressione passata né continuare a fraintendere Dio. Ero pronta a pentirmi. Volevo usare la lezione di quel fallimento come monito a me stessa. Ero stata egoista e avida per tutta la vita, nel pericolo disertato, trascurando il lavoro della Chiesa. Ho capito. Il mio punto debole era la paura della morte. Dovevo ricercare la verità per liberarmene. Amén. In seguito, ho letto questo passo delle parole di Dio. Dal punto di vista delle concezioni umane, se pagarono un prezzo così alto per diffondere l'opera di Dio, avrebbero dovuto ricevere una buona morte. Invece, furono torturati a morte prima del tempo. Ciò non è in linea con le nozioni umane, ma Dio fece proprio questo, permise che avvenisse. Quale verità si può ricercare nel fatto che Dio permise che ciò avvenisse? Egli ha permesso che morissero così. Era una condanna da parte di Dio oppure il Suo piano e la Sua benedizione? Né una cosa né l'altra. Che cos'era allora? Oggi si riflette sulla loro morte con grande accoramento, ma così stavano le cose. coloro che credevano in Dio morivano in quel modo e questo ha dolore. Come si spiega? Quando tocchiamo questo argomento, voi vi mettete nei loro panni. Avete allora il cuore triste e provate dolore nel vostro intimo? Pensate, essi diffusero il Vangelo di Dio e vanno considerati uomini buoni. Ma allora come mai ebbero questo esito? In realtà, questo fu il modo in cui morì e perì il loro corpo. Questa fu la dipartita dal mondo umano, ma ciò non significava che il loro esito fosse lo stesso. A prescindere dalle modalità della morte e della dipartita e comunque siano avvenute, non era il modo in cui Dio definiva l'esito finale di queste vite, di queste creature, è una cosa che devi ben capire. Al contrario, utilizzarono tale modalità per condannare questo mondo e testimoniare le azioni di Dio. Queste creature usarono la loro preziosa vita, sfruttarono l'ultimo istante di essa per testimoniare le azioni di Dio, testimoniare la Sua grande potenza e dichiarare a Satana e al mondo che le azioni di Dio sono giuste, che il Signore Gesù è Dio, che Egli è il Signore e l'incarnazione di Dio. Fino alla fine della loro vita, non rinnegarono mai il nome del Signore Gesù. Non fu forse un genere di giudizio su questo mondo? Sfruttarono la loro vita per proclamare al mondo e agli esseri umani che il Signore Gesù è il Signore, è Cristo e che Egli è l'incarnazione di Dio, che l'opera di redenzione da Lui compiuta per l'intera umanità consente ad essa di continuare a vivere. Questo dato di fatto è immutabile in eterno. Le cose materiali sono tutte cose esteriori, come anche la famiglia e la ricchezza. L'unica cosa davvero interiore è la vita stessa. Per ognuno, la vita è la cosa più preziosa, la più degna di essere apprezzata e queste persone seppero offrire il loro bene più prezioso, la vita, come conferma e testimonianza dell'amore di Dio per l'umanità. Fino al giorno in cui morirono, non rinnegarono il nome di Dio nella Sua opera e sfruttarono l'ultimo istante di vita per testimoniare l'esistenza di questo dato di fatto. Non è forse la testimonianza più alta? Questo è il modo migliore di compiere il proprio dovere ed è adempiere la propria responsabilità. Quando Satana le minacciò e le terrorizzò e quando alla fine fece persino pagare loro il prezzo con la vita, non declinarono la loro responsabilità. Questo è compiere il proprio dovere nella misura estrema. Che cosa intendo quando dico questo? Intendo forse farvi adottare lo stesso metodo per testimoniare Dio e diffondere il Vangelo? Non necessariamente, però, tu devi capire che questa è la tua responsabilità, che se Dio ne ha bisogno, devi accettarlo come obbligo morale. Amen. Amen. Le parole di Dio mi hanno colmata di vergogna. I santi hanno dato la vita nel corso dei secoli per diffondere il Vangelo e moltissimi sono stati martirizzati. Alcuni sono morti lapidati o trascinati da cavalli, altri sono stati ustionati, altri ancora crocifissi. Molti missionari sapevano che venendo in Cina potevano morire, ma hanno comunque rischiato la vita per condividere il Vangelo di Dio. E ora, molti credenti sono morti, torturati dal partito per aver diffuso il Vangelo, sacrificando le loro vite per rendere una grande testimonianza a Dio. Perseguitati per la giustizia, tutte le loro morti sono approvate da Dio. Sì. Proprio così. Morire per diffondere il Vangelo e testimoniare Dio è la cosa più preziosa e significativa in assoluto. Certo. In passato, non l'avevo mai capito. Ero sempre aggrappata alla vita. Per me, la morte era la fine di tutto. Per via della persecuzione del partito, ho abbandonato il mio dovere per un'esistenza ignobile. Questa è una macchia eterna e una grave trasgressione. Di fronte alle avversità senza nemmeno essere arrestata, tradivo Dio per paura di morire. Ho visto che non avevo capito l'onnipotenza di Dio. È Dio a prestabilire qualsiasi cosa della vita, qualsiasi nostra sofferenza. Non possiamo sfuggirvi. Sì, è vero. Sono grata per l'illuminazione di Dio che mi ha permesso di capirlo, di cambiare le mie prospettive errate e di affrontare la morte in modo corretto. Questo pensiero mi ha dato più fede. Da allora, qualsiasi cosa dovessi affrontare, ero pronta ad affidarmi a Dio senza abbandonare il mio dovere. Sia l'ho dato Dio. Il 6 luglio 2022, la mia collaboratrice è venuta da me dicendo «È terribile. Tre leader sono stati arrestati. La notizia mi ha messa a disagio. Quei leader avevano avuto contatti con molte persone e famiglie e con uno di loro avevamo parlato appena pochi giorni prima. Dovevamo prendere provvedimenti per evitare perdite maggiori. Ma ero ancora intimorita e spaventata. Se la polizia avesse messo gli occhi su quei fratelli contattandoli, avrei rischiato l'arresto. Ho ripensato alla dolorosa lezione appresa in passato e a come avevo tradito Dio e offeso la Sua indole. Era un dolore che non avrei mai dimenticato e non volevo ripetere lo stesso errore. Così, ho pregato Dio ripetutamente. Oddio, quello che sto affrontando oggi mi spaventa, ma stavolta voglio rimanere leale al mio dovere e non scappare. Ti prego, dammi fede e forza. Ho avvisato i fratelli e le sorelle perché stessero ben attenti e ho trasferito i libri delle parole di Dio in luoghi sicuri. Poi, mi è venuto in mente che casa mia non era affatto sicura. Così, sono andata ad avvertire mia suocera e a farle affittare una stanza per quel giorno. Avvicinandomi all'ingresso, ho visto una coppia di giovani uomini vestiti di nero. Non ho osato entrare e sono invece andata a casa di un parente. Ho saputo che mia suocera era già stata arrestata e che quegli uomini vestiti di nero erano agenti di polizia. In seguito, mi hanno detto che una sorella era uscita per dire agli altri di trasferirsi altrove, ma non era tornata. Forse era stata arrestata anche lei. Non avevo molto tempo per riflettere. Sono corsa a occuparmi di altro insieme alla mia collaboratrice. Ho scoperto che si trattava di un'operazione di arresto coordinata del partito e che 27 persone erano state arrestate nel giro di una notte. Di fronte a una situazione così, sapevo che Dio mi dava l'occasione di fare una scelta differente. In passato, avevo disertato tradendo Dio. Ora, non potevo deluderlo di nuovo. Dovevo affidarmi a Lui e lavorare con gli altri per affrontare il tutto e fare il mio dovere. Pensare questo mi faceva sentire più calma e in pace. È stata un'esperienza molto preziosa. Imparare una lezione quando falliamo rende poi la sofferenza degna di essere vissuta. Esatto. Quando ora parlo della mia trasgressione, so affrontare e riconoscere che sono aggrappata alla vita, egoista e spregevole. Ma non voglio più essere quel tipo di persona. Voglio che quella trasgressione mi faccia da monito, da richiamo a non ripetere mai più lo stesso errore. quel fallimento mi spinge a disprezzare la mia indole corrotta e a smettere di vivere in modo così egoistico. Ora, quando vedo fratelli in una condizione simile, offro loro condivisione affinché possano sfruttarla per comprendere l'indole giusta di Dio che non tollera offesa. Questa trasgressione è indelebile nel mio cuore e molto dolorosa, ma è diventata un'esperienza preziosa nella mia vita. Sia lodato Dio. Sia lodato Dio. Esperienza meravigliosa.